Benvenuti su Gossip TV 24. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. L'universo dello spettacolo piange la perdita di Daniela Costa, talentuosa attrice spagnola di 42 anni, giunta alla ribalta anche in Italia grazie al suo indimenticabile ruolo nella celebre serie TV, Paso Adelante. La triste notizia della sua scomparsa è stata confermata dai media spagnoli, seguendo un comunicato iniziale del collega Miguel Angel Muntz. Le circostanze esatte della prematura partenza di Daniela rimangono, al momento, avvolte nel mistero, aggiungendo un alone di tristezza a questa dolorosa notizia. Nel Metz, collega e amico della Costa, ha condiviso la notizia, ricordando i momenti indimenticabili trascorsi insieme durante le riprese di Paso Adelante. Questa serie TV, originariamente trasmessa in Spagna su Antena 3 tra il 2004 e il 2006, ha conquistato anche il pubblico italiano su Italia 1, diventando un successo senza tempo. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con incredulità, e l'attore ha sottolineato la loro collaborazione in altri progetti, tra cui, i miei adorabili vicini. Riposa in pace, Daniela Costa. Le nostre sincere condoglianze vanno ai suoi familiari e amici più stretti. Miguel Angel Muntz ha confermato la notizia attraverso l'agenzia dell'attrice, sollecitando rispetto per la privacy della famiglia in questo difficile momento. Il mondo dello spettacolo perde un talento straordinario, ma il ricordo dei suoi contributi rimarrà indelebile. Lascia un commento al video per farci sapere cosa ne pensi. Ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.